Per un futuro di pace occorre dare spazio alla donna. Papa Francesco celebra l'8 marzo con un omaggio alla capacità, tutta femminile, di portare nel mondo il sogno dell'amore. L'occasione è l'incontro con l'America Jewish Committee, l'organizzazione ebraica statunitense che da tempo intrattiene stretti rapporti con la Santa Sede. La donna è con lei che fa bello il mondo, che lo custodisce e mantiene in vita. Mi porta la grazia che fa nuove cosse, l'abbraccio che include il coraggio di donarsi. La pace è donna. Una visione necessaria, quella femminile, afferma il Papa, per creare l'atmosfera di casa e di famiglia, necessaria a neutralizzare ogni rigurgito di antisemitismo. E per me, fronte di grande preoccupazione, la diffusione in puoi luoghi di un clima di cattiveria e di rabbia, nel quale atteciscono perversi eccessi di odio. Penso in particolare alla recrudescenza barbara in vari paesi di attacchi antisemiti. Anche oggi vorrei ribadire che è necessario vigilare nei confronti di tale fenomeno. Nessun buonismo, avverte il Papa, contro l'odio. È importante il dialogo religioso, il rispetto reciproco e la tutela della vita e della libertà religiosa. Affermazione in continuità con quanto ricordato nel Magistero Quotidiano di Santa Marta. Un richiamo alla coerenza contro l'ipocrisia di chi, dichiarandosi cattolico, non essita a sfruttare i propri operai umiliandoli.